benvenuti nel mondo di idee per viaggiare tour operator dal 1995 sono sonia radicevic product manager carai b e messico e oggi vi porterò alla scoperta della romantica antigua isola delle piccole antile e le delle 365 spiagge una per ogni giorno dell'anno è un concentrato di quell'eden che gli amanti dei caraibi sognano mare spiaggia baglianti flora rigogliosa e coralli l'isola conserva il tradizionale carattere delle indie occidentali ed è fascina per la piacevole atmosfera coloniale che emana dai vecchi mulini di pietra dalle antiche piantagioni di canna da zucchero abbandonate da tempo ad antigua trovi davvero un paradiso di scenari ed atmosfere capaci di appassionarti ho creato per voi una selezione delle nostre migliori proposte tra viaggi di nozze in famiglia di coppia o di puro relax e di emozionanti avventure scegli quella giusta per te sul sito nella sezione delle offerte idee per viaggiare da 25 anni da forma ai tuoi sogni fidati della palma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti